Ma dai, ma chi è che si nasconde nel pieno? Devi essere Pino il contadino! Benvenuti in questa reaction! In questo video vedremo le cose più sfortunate che possono capitare nella stagione 1, capitolo 2 di Fortnite. Ma vi ricordo che i connessionati puri sono iscritti al canale e hanno attivato la campanella e soprattutto hanno lasciato un mi piace per arrivare a 10.000 mi piace per un altro video simile e soprattutto se volete supportarmi ulteriormente usate il mio coach e supporto un creatore OctiPFI scritto così OctiPFI per avere una tega lunga così. Detto ciò andiamo subito al video. Allora vediamo, loro sono qua che vogliono fare il rocket ride, quindi lui lo spara, lui lo prende col rampino, lui spara un colpo col pompa e col cecchino e prende in nosco punti. Ma vediamo cosa succede qua, lui prende la mira, sta per sparare col cecchino a quel nemico lì ma qualcun altro gli atterra davanti e lui lo prende proprio in pieno. Mi dispiace, qua vediamo un bellissimo bloom della R che come al solito ci va a incazzare in ogni partita di Fortnite c'è questo bloom della R che veramente è una cosa indescrivibile, fa proprio schifo. Vediamo, pam! Questo l'ho fatto anch'io in live l'altro giorno e faccio le live ogni giorno dalle 4 alle 8 dove gioco con gli abbonati e l'altro giorno ho appunto avuto questa roba qua che sparo col rampino, lo prendo... Io odio quando i miei amici mi buildano davanti, io lo odio, io lo odio proprio in tutto e per tutto. Vediamo lui, lui ha sparato un razzo, no? Si butta, si butta... Spara un altro razzo? Ok, spara un altro razzo, atterra, uccide il nemico, va per uccidere l'altro nemico e il razzo che aveva sparato prima gli arriva addosso e lui muore. Vabbè, vabbè. Allora, vediamo qua invece. Ok, allora... Cosa succede qua? 20 giocatori rimasti, lui spara e quello è palesemente un bot. Dai raga, si capisce che è un bot. Ma cosa fa? Ma cosa... Ma mi scusca... Ma cosa ride? L'ha preso con la trappola? Poverino, mi dispiace. Ma questo che mi raccia, come fa? Come lutta i materiali questo? Spara, bloom della R solito, lancia la granata, rimbalza sulla macchina, torna indietro. Tiro da tre punti, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Qua cosa può succedere mai? Ok, lo spara col tattico, gli fa 16 di danno che è praticamente niente. GG bro, GG entra il team. No! Ok, lo fanno cadere di nuovo. Cosa mai potrebbero fare? Far cadere tutta la struttura? Vabbè, non ho ben capito, ma vabbè. Niente di troppo... Cioè, sfortunato sì, perché è caduto, vabbè. Ma tutti cadiamo nella nostra vita su Fortnite. Però lui, che non ha... Lui è morto, ma anche l'altro è morto. Ma che sfiga! Pam! Ha mirato uno, ha colpito quello dietro! Perché l'altro intanto gli spara un razzo da tutt'altra parte? Cosa potrebbe... Cerchiamo di indovinare cosa potrebbe mai succedere. Mi dispiace per lui. Ho capito, ho capito. Lui spara e il tipo edita in quel momento. Non ci credo mai. Non ci credo mai che l'abbia preso. Vediamo un po'. Qua siamo nella mia città preferita. Che non mi ricordo mai il nome. Però è la mia città preferita questa. Perché è veramente fortissima. Perché ti curi nell'acqua e stai lì. E vabbè però sei un po' scemo. Cioè la senti la trappola però vecchio mio. Ma è un bot. È palesemente un bot. Cosa fa? Cosa fa? Ah la nuova skin di Star Wars. Che diciamo ce lo fa cagare. Cioè scusate. Se a voi piace a me fa cagare. Si nasconde nel pieno. Questa è una funzione che probabilmente nessuno utilizza in questo gioco. Io non so. Ditemi voi nei commenti se voi vi nascondete nel pieno oppure no. Perché io non mi nascondo mai nel pieno. Mai. Ma dai ma chi è che si nasconde nel pieno? Devi essere... Pino il contadino. Che è sfidanzato con Gervasa la contadinasia. Io so già cosa succede. Lui spara con l'RPG e muore perché colpisce il tipo. Guarda guarda guarda. Sono sicuro. Sono sicuro. Palese. 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 RPG in tuccecchinata. Is the new double pump. Ah è il Demorgorgone. Attenzione. Vediamo un po'. O muore o fa... Un trickshot della madonna. Il bello è che loro buttano le loro partite così. Io non farei mai una roba del genere. Venti, venti, venti. Vieni conmigo, vieni conmigo. Vieni conmigo. Attenzione. Com'è, com'è, com'è. Com'è. Qua ormai tutti hanno la ghoul trooper. Ormai non ci stupiamo più quando vediamo la ghoul trooper. Questo Natale uscirà anche l'elfo così siamo tutti contenti e felici e via. Quindi se avete un account con l'elfo e volete venderlo liberatevene adesso perché poi tanto ritorna. Questo è il Master Pro Sniper. Questo che ha un bloom della R strafortunato. Lancia una granata e immagino gli torna in bocca. Qualcosa succederà. Vai, no scope. Ok. 110. Oh, i nemici non muoiono mai. Ma qual è? Dov'è la sfiga in questa clip? Cosa potrebbe mai essere la sfiga? Ok, qua ha fatto un quickscope della Madonna. E l'altro ha avuto sfiga effettivamente. Si stanno facendo un farò. Lui spara a caso e becca, immagino. Palese, palese. Vabbè, dai, palese. Rocket Ride, vediamo un po'. Ormai, dopo questo video, non ci stupiamo più di tutti questi Rocket Ride. I nemici sono sfigati in questo caso. Se sentite un razzo partire e non sta mirando a voi, raga, copritevi. Altrimenti vi arriverà un no scope di Rocket Ride. Che non è quello che vorreste. Questo si spara sotto i piedi. Sicuro. No, questo si fa cadere da solo, secondo me. No. Si spara sotto i piedi. È la mia risposta definitiva. Io avrei disinstallato il gioco. Io avrei disinstallato il gioco, sia chiaro. Io amo lo sniper, lo amo davvero, davvero tanto. No, no, non dirmi che ce la fa, non dirmi... Eh, vabbè. Oh my god! Oh! Oh my god! Io spara nel culo, va sempre bene sparare nel culo. Io spara in testa, va sempre bene sparare in testa e poi nel culo, chiaramente. E attenzione, con la schinga... No! No! Che, che dispiacere. Di nuovo la mia città preferita. Tutti si buttano qua, a quanto pare. Allora, vediamo cosa trova. Trova le armi. Io so già. Lui si butta, attraversa la scritta e muore. Sono sicuro perché mi è successo il live. Lui si butta sulla scritta? No. Ok, non era come avevo previsto. Non era come avevo previsto, ma vabbè. Ma cosa stai facendo? Perché spara all'albero? Cosa vuoi fare? Vuoi far cadere i nemici? Ah, rocket ride. Solito, solito. Ormai non ci stupiamo più. Che, tra l'altro, questi, allora, o c'hanno una mira della madonna... Boh, loro prendono sempre tutti. E va beati loro. Una bella barca, che come al solito, al posto di andare in acqua, va per terra. Perché è così zoomata? Perché la schermata è così zoomata, tipo? Cosa fa? Cosa fa? Cosa fa? Spiegami. Prende il razzo e lo uccide. Non vedo altra... Non l'ho capita questa clip. Cioè, non l'ho capita. Se voi l'avete capita, scrivetemi l'avrei. Io non l'ho capita. Ok. Va bene. Va bene. Il rampino... È qualcosa di un po' osceno. Perché... Fa di quelle cose che non stanno né in cielo né in terra. What? Cosa fa? Bene... Come here, little boy. Che poi non c'è l'headshot di rampino, purtroppo. Altrimenti sarebbe one shot, one kill. Attenzione. Qua usano il pesce dorato e cercano di fare la kill. No, fanno le stelle cadenti. Ok. Che poteva farle cadere tutte nella stessa direzione. Non l'ho capito perché. Adesso probabilmente vedremo l'altra clip. Ok. No! È successo anche a me questo! Ah, questa è una... Ehi, aspetta. Questa è una clipback. Alzo le mani. Ah, c'hai sfiga, vecchio. C'hai tanta sfiga. Odio questa skin. Mi fa proprio schifo. Non so voi, ma a me fa schifo. Questa è risa squadra? E cos'è? Ma cos'è? Gotham. Va bene. No, non chiedo altro. Che sfigato! No! Ma che roba, avete visto? Ha messo tutto il fiume di pietra, così quando uno si butta, cade e muore. No, no, no. Non va bene sparare alle tanniche di propano. E te la sei un po' cercata, però, eh. Spari alle tanniche di propano. Lui si è buttato e lui... È il Rocket Ride più figo che io abbia mai visto questo.